E il buongiorno va alla giudice di partenza che Eugenio Gianni è stato assessore allo sport del comune di Firenze adesso il presidente del consiglio comunale parte la 100 km del passatore appuntamento a fra 7 ore qualcosa meno o forse qualcosa in più a Faenza partenza da piazza della signoria o quantomeno via dei calzai uoli che lì a fianco a piazza della signoria sono 2300 2400 tanti che corrono vorrebbero farlo per la prima volta la 100 km più famosa del mondo a piedi il centro di Firenze per arrivare dall'altra parte un favorito d'obbligo verrebbe da dire invece no perché Giorgio Calcaterra il romano tassinaro assista di mestiere ha vinto le ultime otto edizioni ma questa può essere più difficile perché viene da un periodo con una chattelgia forte non ha fatto la sua solita scorpacciata di chilometri la partenza comunque sempre dal centro di Firenze con anche la parte coreografica scenografica questa idea della 100 km che riunisse la Romagna e la Toscana nel segno di un gemellaggio del Sangiovese del Chianti ma anche nel ricordo del brigante più efferato più crudele ma anche più popolare il passatore Pelloni Stefano Pelloni appunto partenza con tantissimi come detto colpo di pistola dato da anche il consulente del governo per lo sport Eugenio Gianni che è stato presidente del comitato organizzatore delle Coppe Europa di Firenze svoltesi al Ridolfi vicino allo stadio della Fiorentina, allo stadio solo dell'Atletica e adesso vanno su verso Fiesole ovviamente non si prendono autostrade ma si prendono le strade che sarebbero state quelle del passatore di Stefano Pelloni e quindi su verso Fiesole zone bellissime da godere anche come vista e visuale Giorgio Calcaterra favoritissimo, anzi no proprio per la condizione in cui arriva e allora altri nomi come un reggiano, Daniele Palladino come colui che arrivò secondo l'anno passato Yevgeni Gliva l'Ucraino è il primo a mettersi in moto con una certa lena e poi l'altoatesino Herman Ahmüller Ahmüller ragazzo della Val Pusteria ragazzo cominciano ad essere vicini glianta che ha fatto anche il giro del mondo correndo viene da due edizioni consecutive quella dell'attentato, degli attentati della Maratona di Boston e quella di quest'anno, lui e la sua compagna Patrizia Pignatelli a correre spesso, a lungo, quasi dappertutto Ahmüller assieme a Calcaterra avrebbe dovuto rappresentare l'Italia agli ultimi campionati del mondo della 100 km ma per ragioni economiche si sarebbe stato in Asia niente di tutto ciò arrivò terzo secondo Gliva dietro all'immancabile primo posto di Giorgio Calcaterra imbattibile ed imbattuto nelle ultime otto edizioni di questa gara che ha visto anche titoli italiani, titoli mondiali assegnati in Italia a Tuscania, quindi la 100 km degli Etruschi a Seregno, la 100 km di Seregno vittorie e titoli mondiali proprio per Giorgio Calcaterra che però ha una frequentazione probabilmente anche di maggior affetto e affezione verso questa competizione tosco-romagnola tutto all'insegna, come detto, del podismo del Chianti e del Sangiovese perché infatti c'è il Consorzio Vini di Romagna che organizza c'è la gara femminile che potrebbe essere dominata dalle croate, in particolare Maria Vraieci che vinse l'anno passato il record della manifestazione è proprio di Giorgio Calcaterra al maschile si parte da Firenze e si arriva a Faenza la patria della ceramica con i suoi 60.000 abitanti dal punto di vista sportivo intanto si riuniscono due piazze piazza del popolo che è prospicente piazza della libertà che è la sede dei più bei monumenti di Faenza e poi appunto la patria della ceramica il podismo lui va a partire forte nel primo segmento con lui Giorgio Calcaterra che quantomeno ci prova e Herman Ahmüller ma adesso si va più avanti parte iniziale con l'ucraino Yevgeni Gleva che va in fuga Giorgio Calcaterra si tiene a distanza ma qui è stato appena scavalcato dall'alto attesino Herman Ahmüller dell'associazione sportiva San Genesio che è un bellissimo altopiano sopra Bolzano e qui con un'azione di spalle ancora più cadenti verso l'avanti rispetto al suo non è al meglio della condizione Giorgio Calcaterra ha dalla sua il cuore il talento che per le 100 chilometri è tanto 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 viene da una vittoria recente a Verona in una manifestazione internazionale fatta di tante gare tanti pezzi di gara tante tappe in diversi siti però 100 chilometri non si improvvisano lui comunque vuole se non improvvisare provarci Piazza della Signoria poi su verso Fiesole Vetta Le Croci Mugello Borgo San Lorenzo poi si va verso il punto più alto i 913 metri di passo della Colla di Casaglia il Gran Premio della Montagna poi giù sempre giù Marradi e qui si è a 35 chilometri dal traguardo Brisighella e poi Faenza all'arrivo in Piazza del Popolo il record della manifestazione al maschile è proprio di Giorgio Calcaterra è come essere eccolo qui Evgeni Cliva dietro c'è la macchina del direttore di corsa che ha da sempre Pietro Crementi Pirin come è chiamato uno dei quattro passionari e visionari che decisero di mettersi d'accordo per organizzarla una gara matta come questa al Teo Dolcini Paolo Babini Primo Solaroli e l'idea poi immancabili una coppia di giornalisti Renato Cavina che era il corrispondente locale dei quotidiani sportivi il corrispondente locale di Faenza e Carlo Raggi del resto del Carlino nel 91 questa manifestazione è stata a campionato del mondo un campionato del mondo atipico se vogliamo perché campionato del mondo di 100 km su un tracciato non facile su 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 e poi giù 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 ma quello che si perde in salita non lo si guadagna in discesa Giorgio Calcaterra c'è per lui la possibilità di far vedere anche il carattere arriva Evgeni Gleva all'Ucraino un margine che è stato anche nettissimo ma qui non pare particolarmente pimpante alla femminile la gara vede in testa Maria Vrajic la croata che l'aveva già vinta l'anno passato e qui fa grossa fatica tant'è che può essere un invito a nozze quasi pur faticando per Herman Ahmuller che può entrargli in scia l'altoatesino intanto marrà di 35 km dal traguardo e il sorpasso di Herman Ahmuller eccolo qui ancora in buona condizione 35 km dal traguardo per lui con Giorgio Calcaterra che potrebbe puntare alla doppietta il record al femminile 7.35.07 della Trentina fa l'avvocato di professione Monica Carlin con la vittoria del 2012 Giorgio Calcaterra 6.25.47 nel 2011 ma stavolta non ci sarà primato ma Calcaterra punta al podio e poco altro perché c'è da raccontare proprio della sua situazione di difficoltà a Marradi c'è questo margine davvero netto per Herman Ahmuller Gliva è rimasto sulle ginocchia affaticatissimo il tratto più difficile dopo il passo della colla in cui anche l'assetto di corsa può variare deve variare ancora un po' di attesa sul transito a Marradi siamo già in Romagna anche se c'è un tratto di cosiddetta Romagna che fa parte del territorio regionale della Toscana Ahmuller è qui un Gliva ancora in grossa difficoltà viene affiancato dal suo allenatore per un rifornimento difficoltà enormi per lui per poter dire la sua mentre Giorgio Calcaterra gli è praticamente alle calcagna e può guadagnare il secondo posto prende una linea differente anche più lucida Calcaterra è di nuovo in gara per il podio questa è Piazza del Popolo siamo a Faenza questa è la parte più propriamente promozionale della 100 km del Passatore con i tanti tantissimi ragazzi che si sono impegnati o su tracciato ridotto o comunque con la staffetta 50 per 1000 dal passo della colla in poi perché quelli sono 50.000 metri 50 km staffetta che ha coinvolto tutti intanto arrivano notizie dal percorso con Giorgio Calcaterra che è tornato ad averne Evgeni Gliva è stato praticamente inghiottito prima da Herman Ahmuller scavalcato poi da Giorgio Calcaterra ma Calcaterra si è portato assai più vicino a Ahmuller tanto che quella specie di miracolo sportivo e di impresa è alle porte per provarci quantomeno traguardo prossimo e l'impresa c'è tutta perché piazza del popolo viene annunciato Giorgio Calcaterra non è il Giorgio Calcaterra in condizioni straordinarie ma ha trovato l'ena straordinaria invece nell'ultima parte perché non si aspettava di poter vincere nove successi consecutivi per il tassista romano che proprio nel tratto finale è andato velocissimo più veloce del solito una gara più controllata è finito decisamente sopra le sette ore stavolta ma stavolta contava vincere o quantomeno inizialmente contava provarci per il podio sette ore 05-06 Giorgio Calcaterra del running club futura Roma Sud grande gara e successo che si aspettava poco anche lui proprio per le condizioni fisiche in cui è maturato e adesso non sta nella pelle cento chilometri non gli sono bastati va a salutare uno a uno gli abitanti in piazza del popolo i grandi gli anziani i piccoli non sta fermo cento chilometri non gli sono bastati l'adrenalina ancora tanta 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 questa forse al di là delle otto vittorie precedenti questa la nona consecutiva per uno degli atleti che in assoluto in ogni sport ha legato a questa manifestazione il suo modo di essere lui che comunque è stato campione del mondo della cento chilometri pluricampione del mondo la cento chilometri del passatore va ad abbracciare uno dei fondatori il direttore di corsa e vicepresidente il vicepresidente di Elio Ferri questo è Pietro Crementi che gli consegnerà poi qui il sindaco Giovanni Malpezzi gli verrà consegnato il cappellaccio del passatore ne ha altri otto a casa ammesso non li abbia regalati o devoluti l'abbraccio anche con il sindaco di Faenza è una specie di gemellaggio personale per Giorgio Calcaterra che questa volta non era sicuro di poter essere protagonista lui sempre misurato nel suo modo di essere stavolta estroverso anche tanto anche troppo ragazzo dolcissimo un dominatore delle 100 chilometri ha cominciato con le maratone facendone tante in tanto tempo è entrato nel Guinness dei primati in un anno era stato capace addirittura di una ventina di maratone sotto le due ore e venti con una punta di due ore e tredici all'allora Vigarano Maratona da Vigarano a Ferrara o quantomeno quella era l'edizione che partiva arrivava a Ferrara a Vigarano Mainarda aveva il suo passaggio a mezza maratona non sta nella pelle per una vittoria che non era stavolta programmata come al solito ha scavalcato Herman Ahmull che non è lontano dal traguardo gli ha dato 5 minuti sta per arrivare l'alto attesino della Ienesien Saltenflitzer eccolo qua allarga le braccia ha carezzato l'idea di poterla vincere questa gara questo giramondo della corsa tra l'altro l'ultimo dell'anno collabora con la RAI di lingua tedesca di Bolzano per la Boclassic da commentare in quella lingua Saltenflitzer la Ienesien San Genesio di cui si diceva lui è della Valla Pusteria dalle parti tra Bressanone e Brunico e ha trovato una sua dimensione nelle 100 km dopo averci provato con le maratone ma per tutte e due questi atleti primo Giorgio Calcaterra secondo Herman Ahmull saranno gli atleti da nazionale da maglia azzurra se ci saranno i campionati del mondo quest'anno dopo che sono saltati l'hanno passato bello l'abbraccio fra i due i cardini di questa prova per tutti e due 42 km sono corti 42 km ed ecco l'abbraccio con Patrizia Pignatelli la sua compagna spesso in gara in coppia troppo lunghi per lei probabilmente 100 km carezze reciproche è stato lì lì per vincerla ma non ha fatto sufficientemente i conti o li ha fatti e come perché oh terzo Palladino atletica scandiano reggiano Daniele Palladino quindi un terzetto di italiani 7 ore 08 40 per Herman Ahmull 7 ore 12 29 per Daniele Palladino il primo posto per Giorgio Calcaterra 7 ore 05 06 quindi Evgeni Gliva che l'ucraino che a lungo è stato in testa è scivolato indietro il quarto il russo Dmitri Pavlov tante le vittorie dei russi in questa manifestazione poi ancora per l'atletica scandiana Andrea Zambelli il marchigiano della grottini team Paolo Bravi poi Evgeni Gliva Marco D'Innocenti della GMS il Subiaco il Subiacense il romano l'ha vinta questa gara poi Massimo Poggiolini e Silvio Bertone questi i primi dieci si va al premio con tre italiani tre saranno presumibilmente azzurri Vini di Romagna che fa parte degli organizzatori assieme a quella UOEI che inizialmente era e lo è ancora l'Unione Operai Escursionisti Italiani un'associazione un'ente di promozione sportiva che quella rimane Herman Ahmüller ora dopo che ha brindato non in coppa ma in bottiglia Daniele Palladino quindi un altoatesino da sinistra a destra un romano ed un emiliano per la 100 km più famosa e dicono gli organizzatori orgogliosamente la più bella del mondo qui nel 91 ci fu il titolo mondiale in un paio di occasioni il titolo d'Europa e qui la vittoria di Maria Vraieci che fa il bis dell'anno passato chiude in 7 ore 51 e 43 l'atleta la bella atleta croata della Maximir di Zagabria a corso di recente anche la Colle Marathon non troppo lontana da qui da Barchia Fano provincia di Pesaro Urbino dal Colle al mare l'abbraccio con Piri Incrementi Maria Vraieci al secondo posto ma con margine nettissimo Veronica Iurisic altra croata al terzo posto è per un'altra atleta della allora ma si torna indietro di più di 20 anni Jugoslavia Nejam Ravlie che è una slovena la prima delle italiane la valdostana dell'atletica Sandro Calvesi Francesca Canepa poi Tatiana Mascalieva Antonia Orlic e poi Ermakova Nagiova una Moldova dell'atletica Malo dell'amatoria atletica Malo società Vicentina e qui prova ad esprimersi sentiamola per un attimo a però sì adesso adesso sono molto felice perché io ho arrivato io ho sentito molto bene scorso anno io ho sentito molto molto male e quest'anno io ho sentito male prima parte allora l'anno passato è entrata in netta crisi netta crisi ma ciò nonostante era arrivata prima stavolta invece ha forse meglio preparato forse meglio distribuito forse di testa c'era di più grazie o a causa dell'esperienza dell'anno passato la vittoria è sua quindi se il dominio è italiano al maschile questo è un pianeta questo delle 100 km su cui non è ancora sbarcata l'armata keniana e chissà mai se accadrà che arrivino anche gli africani i grandi africani ma intanto Giorgio Calcaterra su tutti seppure un Giorgio Calcaterra non al 100% tant'è che per la prima volta è salito sopra le 7 ore da Firenze a Faenza ma ha controllato ha distribuito e alla fine per lui c'è stata la vittoria vittoria anche per Maria Vraic che qui ho di fatica a scendere anche per lei il cappello da passatore Stefano Pelloni il brigante più famoso ma dicono dice la letteratura anche più crudele della storia siamo nella città che è di un campione olimpico del 2008 Andrea Minguzzi che è cresciuto nella cisa di Faenza società di lotta sia libera che greco-romana che ha visto tra le sue fila anche Gian Matteo Ranzi del pluricampione olimpico il mitico Vincenzo Maenza c'è anche Daigoro Timoncini nella stessa società la squadra di calcio non va benissimo è in eccellenza l'eccellenza Emilia Romagna meglio l'Atletica 85 Faenza che quella porta all'Atletica d'altronde è una cittadina di un 60.000 abitanti dei buoni rappresentanti Consorzio Vini di Romagna da allora c'è quasi l'obbligo morale di assaggiare anche se non dovrebbe far parte della dieta tipo della podista tipo e questa è una podista che di chilometri ne fa non tanti ma tantissimi tante gare riesce anche ad arrotondare il suo Montepremi dicevo la bella croata di Zagabria che spesso gareggia in Italia con il suo italiano anche un po' rudimentale sempre privo di articoli un po' quello che accade per gli slavi articoli e preposizioni articolate questa che è città che ha legato l'immagine sua proprio da 100 km del passatore una festa popolare al di là dell'aspetto podistico un po' come la fiera di San Rocco ad autunno nella piazza del popolo che affianca piazza della libertà e che ospita i monumenti più belli il loggione il comune il municipio Maria Vragliec 7 ore 51 e 46 fa doppietta consecutiva come due italiane come Monica Carlin come la Brianzola Casiraghi e qui c'è a completare il podio intanto il secondo posto della con nazionale Juricic Veronica Juricic che prende diversi minuti da lei Juricic 8 ore 13 e 10 prima di Nesan Bravlie che è atleta invece slovena Croazia Croazia se la Croazia avrà voglia di mettere insieme una squadra potrà anche se ci saranno i campionati del mondo in autunno e sarebbe meglio avere la certezza anche subito proprio perché vanno preparati in maniera degna primo posto allora per Maria Vraje che fa doppietta rispetto all'anno passato ma l'anno scorso era talmente in crisi talmente in difficoltà si sentì mancare dopo la linea d'arrivo per un aspetto e di concentrazione ma anche di ed ecco qui la terza Nesan Bravlie per un aspetto di concentrazione ma anche di sfinimento totale non è una manifestazione questa che si possa improvvisare Nesan Bravlie fatica al traguardo ma l'idea di tagliarlo quel traguardo le dà qualche energia in più la voce degli speaker ad annunciare il suo arrivo ad annunciare una tripletta e italiana al maschile e tutta slava al femminile Nesan Bravlie terza secondo posto di Veronica Iurisic quindi Slovenia e Croazia ma il primo posto di Maria Vraje e il dominio e la storia che continua a scrivere Giorgio Calcaterra al maschile il tassista romano ha fatto 9 vittorie su 9 consecutive è tutto per la 100 km del passatore di quest'anno ma non me lo dice mondiale europeo dove vai e il tassista romano